Buongiorno, benvenuti a tutti e grazie per esservi collegati quest'oggi con il webinar e gli aggiornamenti da parte di Nicolò Sessa per American Airlines. Benvenuto Nicolò, ti passo lo schermo. Grazie Lia, grazie a tutti per aver partecipato a questo invito in questo periodo di BIT. È comunque un'ottima possibilità per fare una rinfrescata su informazioni che riguardano American Airlines. Io procederò direttamente con la presentazione. Io vado un po' a braccio facendo una panoramica generale. Come è andata quest'anno American Airlines? Ovviamente è stato un anno abbastanza difficile per tutto quel che riguarda il network, gli indipendenti e tutto quanto. Ora stiamo riprendendo molto, giusto per dare un'infarinata che può essere importante anche per noi qua in Europa. American Airlines, un po' come forse tutti i vettori americani, hanno ripreso in maniera molto vigorosa il traffico domestico. Traffico domestico vuol dire che siamo quasi arrivati al 90% delle operazioni rispetto al 2019. Abbiamo ripreso molto bene, stanno finalmente tornando a esserci viaggiatori. Ovviamente questo è un po' per quel che riguarda il domestico e per le zone caraibiche e Messico. Infatti quelle sono le destinazioni sul quale American Airlines si sta focalizzando. Ed è quello che per il momento viene concesso. C'è molta richiesta per esempio sul Messico dove per esempio il governo messicano dà la possibilità appunto di tamponare i passeggeri in arrivo sia in andata che durante che eventualmente alla fine. Se per caso ci sono delle persone appunto che si sono ammalate rimangono dentro i loro iberghi messicani offerti da loro. Quindi diciamo che ci sono molte offerte di possibilità appunto di viaggiare anche dagli stati. Speriamo che anche l'Italia possa mettersi nella posizione di poter essere un porto sicuro per il mercato americano e allo stesso tempo anche loro per noi. In Italia quest'anno ovviamente rispetto ai plani precedenti abbiamo sicuramente un network molto ridimensionato. Al momento abbiamo solo tre rotte aperte e direi che non abbiamo bisogno al momento di averne altre. Abbiamo il Dallas Roma partito a marzo e New York Milano partito ad aprile e il Roma New York che è partito praticamente un giorno fa. Quindi questo è un po' la nostra operatività per quest'estate sarà questa e dovrebbe essere diciamo in linea un po' con la domanda Quanto meno speriamo che sia una volta aperte le frontiere. Avete sicuramente sentito un po' le notizie sul fatto che i voli sugli Stati Uniti American Airlines non hanno l'obbligo di quarantena. Ecco voglio soltanto specificare che questo vale per i voli che vengono arrivando da New York a Milano. Praticamente questi voli consentiranno ai passeggeri di non dover andare in quarantena tornando diciamo dagli Stati Uniti. Ci sono ovviamente delle procedure da fare, ci saranno dei test rapidi da fare in aeroporto. Tra l'altro a Malpensa viene tutto offerto dalla regione Lombardia al momento in termini gratuitamente quindi sicuramente un'ottima cosa questo. Vengono tamponati, allora si richiede un tampone sicuramente prima del rientro e si viene tamponati anche quando si arriva a Malpensa. C'è un'area dedicata e questo consente appunto di non effettuare nessun tipo di quarantena una volta che si è rientrati in Italia. In questo anno diciamo che sono stati fatti grandissimi sforzi per quel che riguarda tutto diciamo il necessità appunto di incrementare ulteriormente i servizi che riguardano appunto l'igiene, la pulizia e la sanificazione di tutto quello che riguarda il contatto appunto con il passeggero. Siamo l'unica compagnia che al momento è stata diciamo accreditata di un premio da GVACSTAR che è un ente che certifica diciamo le standard di pulizia. Questo insomma ci ha dato molto orgoglio il fatto come di aver trattato le nostre, i nostri punti di contatto che sono gli aerei, gli aeroporti in maniera a livello di eccellenza. American Airlines in questi anni appunto, in questo anno ha sviluppato diverse, ha sviluppato molta tecnologia per rendere il viaggio informato, per rendere il viaggiatore tranquillo e per poter diciamo dare tutte le informazioni necessarie per quel che riguarda quarantene, vaccinazioni, restrizioni piuttosto che documentazioni. Già in passato nel mese scorso avevo segnalato il nostro sito Sherpa, Sherpa si può trovare tranquillamente sulla barra di Google cercando Sherpa American Airlines, è un sito estremamente ben fatto che ci dà le informazioni sulle necessità per entrare o uscire da un determinato paese. È molto facile da usare, qua possiamo vedere per esempio come funziona, una volta entrato appunto in Sherpa, si mette lo stato di partenza e lo stato di arrivo e avremo per entrambe le trattevolate le informazioni che riguardano. Per esempio mettendo Italia, Stati Uniti, troveremo appunto tutte le informazioni che riguardano le vaccinazioni e appunto le quarantene necessarie piuttosto che le vaccinazioni e sono tutte appunto informazioni che vengono date dalle autorità preposte a darle, quindi diciamo i vari ministeri della sanità, gli enti appunto governativi, magari anche degli stati americani che certificano appunto questo tipo di informazione. se hai bisogno di quarantena, se hai bisogno di tutta la serie di documentazioni, è tutto molto ben fatto, molto aggiornato, tutti praticamente le informazioni che sono su Sherpa sono molto aggiornate, quasi sempre non vanno oltre le 72 ore, quindi sicuramente è una cosa interessante. questo è praticamente Sherpa è soltanto uno degli strumenti di tecnologia che appunto faranno parte un po' del nostro futuro per quando viaggiamo, ci sarà sicuramente un po' di, sarà sicuramente diverso diciamo viaggiare in futuro con i passaporti sanitari piuttosto che appunto le app che abbiamo lanciato nel recente passato. Le vedremo appunto adesso un po' più nel dettaglio. direi che ecco questo è Verifly, Verifly è quel passaporto sanitario che si può scaricare appunto direttamente sul proprio telefono, è una app che viene usata anche con altri vettori, British Airways, Iberia e Alaska lo stanno testando, Alaska lo sta appunto già utilizzando, è un'app nel quale bisogna registrare, non è che è possibile, è necessario appunto registrare le proprie credenziali sanitari, se sei stato ammalato, se sei stato vaccinato, con che vaccino, se stai partendo, dove devi andare, quando è questo volo, in modo che tu nella app di American Airlines avrai la possibilità di avere il tuo flag verde che ti dà la possibilità di viaggiare senza dover documentare nulla alle varie autorità o al check-in stesso. Qui vediamo anche Let's Get Checked che è praticamente una possibilità che viene data negli Stati Uniti di ricevere a casa il tampone per fare un'autocertificazione con il proprio tampone, Sherpa di cui abbiamo parlato prima e Touchless Travel Experience è un po' diciamo le procedure messe in piedi dalla compagnia per garantire un alto status di igiene. Quindi andiamo un attimo a vedere qualche altro dettaglio con qualche video che ho preparato, in questo caso ne abbiamo già uno, vediamo un po'. Grazie. 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 Quindi ecco Verify è questa app, la app di cui parlavamo prima dove bisogna registrarsi. Attenzione, non è una app tipo, non è un permesso che si può dare all'agenzia di viaggio, Quindi voi come agenzie di viaggio non potrete fare il caricamento delle informazioni sanitarie dei vostri clienti come succede per l'esta, magari io so che ci sono molte agenzie di viaggio che fanno l'esta per i propri clienti. Questo non sarà possibile con Verifly in quanto ci sono delle credenziali di privacy che l'agenzia non può mettere, per questo non è un'informazione delegabile all'agenzia di viaggio. Ci sono delle domande che riguardano anche l'OIATA Travel Pass, se Verifly assomiglierà o assomiglia all'OIATA Travel Pass? Sì, assomiglierà all'OIATA Travel Pass, però in questo caso noi in American Airlines abbiamo già processato appunto questa implementazione negli Stati Uniti perché sta già funzionando da quattro mesi, abbiamo già diverse centinaia appunto di iscrizioni e devo dire che viene usato moltissimo e agevola moltissimo appunto le procedure di imbarco e riconoscimento se per caso appunto ci sono delle persone che sono autorizzate o meno a volare o no. È obbligatorio dall'Italia? No, non è ancora obbligatorio dall'Italia, nel senso che quando saremo in grado di poter volare potremmo anche portare i nostri certificati vaccinali in cartaceo, però la tendenza sarà poi quella anche di rendere questo uso di questa app quasi come se fosse un check-in online. Andiamo avanti un secondo ancora con due video che riguardano due cose abbastanza importanti. La prima è come funzionano gli EPA filters che sono gli filtri degli aerei che purificano l'aria tra i due e quattro, l'intera diciamo cubatura dell'aria, che è 2-4 minuti all'ora e poi vedremo anche come funziona il SurfaceWise che è il vaporizzatore antivirale che viene spruzzato sugli aerei. Sono due video in sequenza, vediamoli. Grazie 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 Ze ho dovuto passare avanti queste slide A questo punto partendo è importante che anche voi come agenzie di viaggio conosciate intanto le regolamentazioni che stanno che sono in vigore attualmente. Ho voluto riassumerle semplicemente in due righe, attualmente noi stiamo dando la possibilità fino al 30 di maggio a tutte le nuove prenotazioni che originano in Italia, dall'Italia appunto, un cambio gratuito, quindi le situazioni sono sempre molto fluide, molto liquidi, cambiano in continuazione. Quindi diciamo al momento tutte le nostre tariffe, anche la basic economy che è la tariffa quella più diciamo più bassa e che solitamente non è diciamo modificabile e viene invece considerata tale fino alla fine di maggio. Poi dopo all'inizio appunto di giugno vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti in tal senso. Mi piace ricordare appunto che sempre anche quest'anno c'è la joint business con gli altri tre vettori che sono appunto Finnair, British Airways e Iberia. E dall'anno prossimo anche Erlingus farà parte della joint business, già adesso sono cominciate le procedure di inserimento del quinto vettore e sarà sicuramente un inserimento importante perché Erlingus ha ovviamente una logicità anche di viaggio per andare negli Stati Uniti, oltre che avere importanti destinazioni negli Stati Uniti stessi. Attualmente per chi viaggia e chi viaggerà anche via Londra, che è il nostro diciamo hub più importante qua in Europa, appunto grazie alla partnership con British Airways, abbiamo, ci siamo trasferiti attualmente, stiamo volando dallo stesso terminal, il terminal 5 di Londra e Heathrow. Quindi una possibilità appunto di collegare, di fare coincidenze molto più facili, molto più veloci e molto più sicure. Come network ovviamente tutti e quattro vettori stanno riprendendo a volare in maniera sistematica. Ovviamente per noi è importantissimo, laddove non vogliamo più, tipo Venezia, la nostra partnership con British Airways perché da con British Airways noi avremo modo appunto di volare attraverso il suffisero e questo ci consentirà di essere capillari su tutto il territorio italiano. Solo come panorama generale, oltre che la joint business suratlantico, ricordo una cosa che forse a noi non interessa moltissimo, ma abbiamo una joint business anche con la JAL, per il Giappone, per la Qantas e invece abbastanza importante comunque per il mercato italiano, e sono le alleanze, quindi ricordiamoci non sono delle joint business, le alleanze con Alaska Airlines e JetBlue. Questo per sviluppare i mercati dell'est degli Stati Uniti e dell'ovest degli Stati Uniti. Entriamo un po' più nel dettaglio perché a quel che riguarda appunto JetBlue abbiamo appunto questa alleanza che si svilupperà esclusivamente su due aeroporti, sullo sviluppo di New York e sullo sviluppo di Boston, perché New York non è mai stato in realtà un hub per proseguimenti, ma l'alleanza con JetBlue ci consentirà appunto di sviluppare molto meglio i proseguimenti per quel che riguarda le tratte da New York. JetBlue ovviamente comincerà a fare, anche loro, a fare il volo intercontinentale, su quelle tratte noi saremo ancora in competizione. Ci sarà appunto l'allineamento del network, questo è molto importante, ricordiamoci appunto che questa alleanza non è un'alleanza di carattere cosmetico, ma è proprio un scambio di slot in obbligo di implementazione su entrambi gli aeroporti, quindi New York e Boston saranno sicuramente degli hub in crescita, che garantiranno la possibilità appunto di ulteriori proseguimenti per i nostri clienti dell'Italia. Anche Alaska, dall'altra parte appunto della costa, nella costa ovest, stessa cosa, quasi la stessa cosa in realtà, perché è già ancora più a buon punto l'alleanza con Alaska Airlines, che ci ha permesso appunto di sviluppare ulteriormente il Gateway di Seattle, che è la casa di Alaska Airlines. Dalla casa di Seattle infatti, ovviamente noi stiamo implementando ulteriormente traffico domestico e ovviamente anche traffico intercontinentale. Da Seattle infatti noi incomincieremo a volare sull'India, Bangalore, su Shanghai e su Londra direttamente. Quindi per chi volesse entrare direttamente su Seattle per un tour dello stato di Washington, via Londra si può fare tranquillamente. Questi qui sono gli operativi appunto di questi voli che ho menzionato e diciamo che in futuro Seattle si prevede possa ulteriormente crescere. Queste un po' sono un po', vogliamo rivedere un secondino alcune delle nostre quattro opzioni per quel che riguarda la tratta volata. la first class, la flagship, la business class, la basic economy e l'economy class. Ora vedremo anche qua un piccolo video che riguarda un po' il servizio nelle classi premium. Vediamo un attimo se riusciamo a far partire questo video. Allora. Grazie. 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 negli Stati Uniti per quel che riguarda American Airlines c'è la Admiral Club e la Flagship la Flagship è quella che noi intendiamo spesso e volentieri la Lounge propriamente detta cioè il passeggero di business class che detiene un biglietto appunto di business class e che entra dentro nella Flagship senza pagare alcun tipo di supplemento e ha un certo tipo di catering ovviamente complimentare gratuito di un livello molto alto per chi invece non stesse viaggiando in business class ma che avesse la necessità di voler fermarsi in una Lounge può acquistare le entrate nella Admiral Club che sono delle Lounge di livello leggermente inferiore ma che ti danno grandi benefit grandi benefit perché appunto ci sono comunque i servizi in di catering diciamo che non ci sono i primi o i secondi serviti come nella Flagship sono sicuramente molto ce ne sono molti di più negli Stati Uniti ci si può entrare anche con un status adeguato sulla propria tessera tessera che è la tessera One World ovviamente sono state chiuse per diversi mesi negli ultimi mesi e adesso stanno di nuovo sono ormai quasi tutte aperte ovviamente anche loro hanno gli standard sanitari vengono ripulite vengono sanificate in maniera capillare e al momento vengono offerti non so se avete visto anche nel primo video dei pacchetti dei pacchetti che non c'è un vero e proprio buffet dove ognuno con le proprie mani può prendere ci sono delle scatole monouso con dentro appunto i vari cibi che si possono scegliere però vengono proprio lasciate monouso in modo che non ci possano essere ulteriori contatti fra persone che maneggiano diciamo posate Primi Economy vi ricordo che ovviamente anche se è offerta anche sui voli appunto dall'Italia ricordo che la Primi Economy ha una propria classe di prenotazione ha un proprio catering ha un proprio check-in dedicato quindi questo è una cosa molto importante perché non è diciamo un upgrade dell'Economy Class è decisamente un prodotto ben definito con poltrone molto più larghe dell'Economy Class con molto più spazio rispetto all'Economy Class e con i schermi più grandi adesso un'altra cosa che mi piace ricordare è la Main Cabin Extra la Main Cabin Extra di cui vedremo adesso il video è quelle parti di quei sedili che vengono distanziati fra di loro in Economy Class e che vengono venduti come assegnazione posto quindi ogni passeggero può comprare un biglietto di qualsiasi tipo di qualsiasi prezzo e poi solo successivamente chiedere l'assegnazione posti a pagamento Main Cabin Extra può essere fatta appunto anche soltanto per una tratta intanto vediamo un attimo questo video che magari è più semplice per capire per capire ovviamente per quel che riguarda diciamo gli intercontinentali gli spiriti diciamo le bevande alcoliche sono comunque incluse nel video appunto parlava di poter appunto avere delle bevande alcoliche questo riguarda ovviamente il traffico domestico quindi andiamo avanti un secondo nella nostra nella nostra presentazione e mi piace ricordare quanto è importante avere scaricare la app di American Airlines prima di di viaggiare e adesso vedremo un attimo anche il perché ci sono diverse diverse diciamo funzionalità della app di American Airlines che può essere molto molto importante ecco adesso vi faccio vedere perché il perché è molto semplice l'ha spiegato qua in questo brevissimo video perché attraverso l'app di American Airlines oltre che è possibile collegarsi nei voli domestici che possono essere molto lunghi nei voli domestici è possibile collegarsi al wifi dell'aereo gratuitamente quindi attraverso l'app c'è un wifi dedicato a chi ha l'app aperta e gratuitamente posso vedere la mia videoteca e tutti i film che di solito sono disponibili sul volo intercontinentale è sicuramente un'ottima facility soprattutto se uno si porta dietro anche il tablet per potersi vedere film in streaming senza appunto pagare nulla dal wifi ma diciamo vedendo un'ampia videoteca o biblioteca eventualmente per leggere i libri ed è ovviamente tutto gratuito vediamo qualche altra possibilità vediamo un attimo se riusciamo ad andare avanti ulteriormente why not invece è un'altra nuova possibilità che viene dato diciamo ai grandi intenditori di vini di poter ordinare specifici specifici vini in questo prodotto che si chiama flagship sellers è una cosa interessante ovviamente anche questa anche questa possibilità viene data per chi ha la app di American Airlines ne parleremo ulteriormente dopo su cosa è possibile avere con la app però passiamo invece adesso diciamo in maniera randomica anche ad altre informazioni informazioni tipo l'implementazione del nuovo terminal a Washington DC non tutti sanno che American Airlines nei suoi nove hub anche Washington DC che non è l'aeroporto diciamo quello fuori Washington usato da United è quello del loro hub mentre noi abbiamo un hub domestico al Washington DC che è anche chiamato l'aeroporto Reagan è quello in centro a Washington abbiamo appunto rimodellato questo terminal il nostro terminal sostanzialmente riconfigurato e nuovo sta arrivando anche per chi non lo sapesse direi che manca poco anche alla nuova apertura quando sarà pronto io guardo spesso e volentieri anche la ristrutturazione di La Guardia è un altro aeroporto che viene in fase di grande ristrutturazione anche Dallas nella sua diciamo che è la nostra sede ha la possibilità di implementare un sesto mega terminal che diciamo è in progetto e che sarà implementato nei prossimi anni con la app è possibile anche appunto entrare c'è un accordo fra American Airlines e Apple attraverso appunto Apple Books e Apple Music avremo appunto questo accesso quasi questa diciamo banca dati quasi illimitata di opere letterarie e anche di musica vediamo un attimo un piccolo video anche qui di spiegazione 50 milioni di canzoni questo era fino alla fine dell'anno quindi sicuramente qualche cosa sarà possibile vedere questa era un po' la slide di cui parlavo prima l'intrattenimento gratuito che appunto è disponibile anche sul proprio telefono sui voli domestici ecco un'altra cosa possibile è anche questa che vediamo che è il track your bags vediamo attraverso la app quindi leggendo diciamo il codice che abbiamo lasciato sui le targhette che ci hanno rilasciato all'imbarco dei bagagli potremo vedere se il nostro se il nostro diciamo bagaglio ci sta seguendo dov'è e dove non è è una cosa sicuramente interessante così avere la certezza di essere seguiti dal proprio bagaglio fino alla fine del viaggio una piccola slide dedicata American Eagle che con gli stessi standard fornisce il network regionale vi ricordo che la nostra flotta come American Airlines Group quindi American Airlines e American Airlines Eagle è stata fino a due anni fa aveva 1600 aerei adesso sono stati ridotti ovviamente per una questione di svecchiamento e di efficientazione appunto della flotta a 1450 aerei un prodotto che adesso stiamo sponsorizzando molto si chiama EPIC che è l'entertainment and production incentive riguarda per chi avesse diciamo contatti con case di produzione la possibilità appunto di avere degli sconti particolari per case di produzione cinematografica o soprattutto insomma magari anche meno in maniera meno voluminosa anche per spot fotografici video o anche eventi sportivi può fare richiesta a noi appunto firmando un contratto che viene definito EPIC il nostro commitment per la sostenibilità ecco questa è un'altra di quelle cose che viene diciamo messa sul piatto per importanza cioè arrivare al 2050 a raggiungere l'obiettivo paritario appunto per l'emissione di sostanze inquinanti è sicuramente così come noi ma anche i nostri partner si passa attraverso appunto l'investimento di acquisto di combustibili ad alto ad alta performance che appunto siano molto meno inquinanti il rinnovo della flotta la grande cura anche nel nella gestione dei rifiuti la cura del appunto anche di anche gli uffici che devono avere un'impronta ecosostenibile è una cosa che viene richiesta moltissimo negli Stati Uniti è una cosa che viene richiesta molto anche dalle aziende ed è sicuramente un cavallo di battaglia che un po' tutto il turismo dovrebbe diciamo cavalcare proprio per dare appunto per rendere un po' diciamo il viaggio i viaggi comunque aerei più sostenibili a livello appunto ambientale questo un po' il nostro certificatore diciamo che che controllerà il nostro impegno che viene diciamo che parte veramente dagli apici fino all'ultimo dipendente è diciamo l'azienda Cool Effect che appunto monitorerà il nostro il nostro il nostro impegno che appunto è anche diciamo condiviso con i nostri partner io credo di aver concluso vi lascio i 5 anzi 6 diciamo link sul quale poter andare che troverete appunto nella presentazione un link importante per quel che riguarda appunto le news che vi consiglio sempre di rimanere appunto aggiornati su quello che sta succedendo 6 link è il portale per l'agenzia di viaggio Explore American è diciamo più per aziende diciamo One World invece novità per quel che riguarda l'alleanza Country Restriction è sostanzialmente quella che di cui si parlava prima nel sito Sherpa e l'ultimo link che troverete appunto nella presentazione Covid Policies and Solutions questo è praticamente un recap di tutte le policy che sono in atto attualmente per fronteggiare questo periodo io credo di aver concluso lascerei io sono abbastanza ottimista sul fatto che è una cosa in considerazione personale che per luglio qualche possibilità di viaggiare ci sarà io credo che molti italiani abbiano molta voglia di viaggiare e che magari se ci sarà da fare qualche documento burocratico in più per gli Stati Uniti lo farà sono abbastanza sicuro e penso che tutti voi come agenti di viaggio spero veramente che qualche cosa si possa muovere e che si possa tornare diciamo a vendere Stati Uniti e soprattutto a viaggiare Stati Uniti un grosso saluto e ripasso allora la parola a Lia se per caso ci sono delle domande vi chiederei di mandarle a Lia e cercheremo di rispondere one by one a ciascuna grazie Lia allora ti lascio la parola per la chiusura sì grazie quindi le domande qualche domanda c'è te la girerò poi le rispondi via mail successivamente quindi preferisci sì ottimo perfetto e a questo punto riceverete tutte queste informazioni che vedete qua anche con la mail domani di ringraziamento oltre che i link che Nicolò ci ha mostrato durante tutta la presentazione detto questo vi do appuntamento comunque venerdì 14 con il webinar sugli Stati Uniti on the road itinerare su misura per tutte le tasche e vi ringrazio e vi auguro una buona fine giornata ciao grazie Nicolò ciao a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti